Anche l'istituzione, gli enti pubblici, ci siano le professioni, perché sono tutti soggetti che devono lavorare in rete per realizzare l'alternanza, è l'alternanza vera. Questi soggetti lavoreranno assieme alle scuole per realizzare dei progetti di alternanza. Per esempio, vi cito due esperienze che abbiamo fatto, una come network e l'altra come associazioni datariali che sono importanti anche per il discorso dell'alternanza. Un primo progetto è quello di un'analisi dei profili professionali del nostro territorio. Si è impegnata a lavorare con le aziende, quindi con gli imprenditori che hanno dato la disponibilità a valutare chi sono le persone che lavorano all'interno.